Anche gli averi digitali fanno parte dell'eredità e quanto ha deciso un provvedimento del Tribunale di Milano che ha autorizzato una donna ad entrare in possesso dell'account di posta, quello di Acclude, e quello dei profili social del marito defunto. La richiesta è motivata spiegando di potervi trovare foto e video del marito con i figli, lettere d'addio o dichiarazione di ultime volontà. Apple, Microsoft e Meta Platform le avevano chiesto un'autorizzazione del Tribunale, la cui decisione evidenzierebbe una falla normativa nel sistema di protezione post-morte, ma dei dati contenuti nei nostri account. Al prossimo episodio